Un sostegno stabile per le nostre canne, al posto del classico picchietto che si usa da sabbia, potrebbe essere un tripode, è molto semplice da montare per avere una variante come questo tipo di tripode con un portacavamenti già inserito in alluminio per non arrugginirsi, naturalmente trattato magari esternamente come questo, con una vernice particolare antinunce. Il picchietto centrale è come un classico picchietto che si usa dalla sabbia, quindi non un tubolare, è una L che permette di avere più stabilità e quindi di non battere sulle tocchie o sulle canne o addirittura quando si pesca, quando è un mare un po', un mare forte, un po' più pronunciato, permette molta più stabilità senza appendere il classico o sacchetto d'acqua o secchio d'acqua. Ha un'ottimissima rifinitura su dove bocciano le canne, sia come i bicchieri che, come all'ordine per le nostre canne, in modo tale da non graffiarle, e può estendersi telescopicamente in alto per il doppio di come lo vediamo e quindi riuscire a, eventualmente in caso di mare grosso, di portare la nostra lenza della picchietta, della piccata della canna oltre l'onda e quindi non avere un forte attrito e riuscire a restare in pesca perfettamente. A presto!